Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal pastore Eugenio Bernardini. Cari amiche e cari amici, benvenute e benvenuti a questo culto evangelico della seconda domenica di Avvento. Oggi siamo accolti con le parole dei profeti Isaia e Zaccaria. Così leggiamo. Così parla il Signore. La mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per essere rivelata. Manda grida di gioia, rallegrati figlia di Sion, perché ecco io sto per venire e abiterò in mezzo a te, dice il Signore. In quel giorno molte nazioni si uniranno al Signore e diventeranno mio popolo. Vi invito a raccoglierci in preghiera. Dio nostro, tu sei diventato essere umano per vivere tra di noi, come uno di noi, per liberarci dalla paura che abbiamo per la nostra vita e il nostro futuro e per allargare il nostro orizzonte al di là di noi stessi. Ti benediciamo per la tua pace così diversa dalla nostra. Ti benediciamo per la tua giustizia così diversa dalla nostra che rischia sempre di essere parziale. Ti ringraziamo per il tuo amore generoso, così diverso dal nostro che si rivolge solo a chi ci è amico. Il tuo amore dona speranza agli indifferenti, scalda i cuori, apre i nostri occhi. Ci fa intravedere il bagliore della gioia che illumina la nostra vita. Grazie, Signore. Amen. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Leggo dal Vangelo secondo Marco, al capitolo 1, i versetti da 1 a 8. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, come scritto nel profeta Isaia. Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te per prepararti la via. Voce di uno che grida nel deserto. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Venne Giovanni, che battezzava nel deserto, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. E tutta la regione della Giudea e tutti quelli di Gerusalemme, accorrevano a lui, confessando i loro peccati. E da lui erano battezzati nel fiume giordano. Giovanni era vestito di pelo di cammello, con una cinghia di cuoio alla vita e si nutriva di locuste e di miele selvatico. E predicava dicendo, dietro di me viene chi è più forte di me. Non sono degno di chinarmi a slacciargli i calzari. Io vi battezzo con acqua, ma lui vi battezzerà con Spirito Santo. Abbiamo ascoltato la lettura delle prime parole del Vangelo di Marco, che inizia presentando la figura di Giovanni il Battista, colui che i Vangeli considerano il precursore, cioè colui che viene poco prima del Messia, cioè di Gesù. E subito dopo, abbiamo letto, il Vangelo di Marco ci presenta Gesù stesso, adulto, che si presenta a Giovanni per essere da lui battezzato. Se cercate nel Vangelo di Marco il racconto del Natale, cioè della nascita di Gesù, non lo troverete, come non lo troverete nel Vangelo di Giovanni. Solo i Vangeli di Matteo e Luca, con importanti differenze tra di loro, riportano quei testi che sono diventati tra i più famosi della narrativa mondiale, quelli della nascita di un bambino davvero speciale, in una notte particolare, piena di stelle, dove una è una stella luminosissima, che fa da guida a dei magi, a dei personaggi particolari che arrivano dal lontano oriente e che questa stella guida fino al neonato Gesù. Il racconto di una notte piena di stelle e di gioia dei pastori, della gente comune, dei visitatori venuti anche da molto lontano, appunto, i magi, a cui si contrappone, a questa gioia, la preoccupazione e l'odio dei potenti. Gioia degli umili e odio dei potenti è una dinamica che accompagnerà sempre l'esistenza di Gesù, come peraltro accompagna quella della Chiesa quando la Chiesa è fedele al suo Signore. Perché il Vangelo di Marco inizia il suo racconto non con la nascita di Gesù, ma con Gesù già adulto, pronto per la sua missione. E più precisamente perché inizia con Gesù che dopo il battesimo che riceve da Giovanni inizia questa missione pubblica insegnando, guarendo, incontrando le persone e attraverso loro tutti noi. Perché per il Vangelo di Marco è solo attraverso le sue parole, quelle di Gesù, attraverso i suoi gesti, quelli di Gesù, attraverso le sue guarigioni, quelle di Gesù, che tutto, tutto ha inizio anche per noi. Questo è importante per Marco e questo ci dice già molto del nostro avvento, della nostra preparazione al Natale dove le parole, i gesti, gli incontri di Gesù sono sempre più soffocati da, che cosa, quel manto di eccitazione più o meno intensa che ci piace, che ci commuove, ma che onestamente avvertiamo poco autentica, effimera, che non dura cioè nel tempo, perché non ha radici, perché non è radicata, come vuole il Vangelo di Marco, nelle parole, nei gesti, negli incontri con Gesù. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, proclama il Vangelo di Marco, come se volesse mettere subito le carte in tavola, svelare che parlerà di Gesù, di un Gesù che non è solo maestro come nessun altro. Essi si stupivano del suo insegnamento perché egli insegnava a loro come uno che ha autorità. Marco 1, 22. Gesù che non è solo medico come nessun altro. Che cosa sono queste opere potenti fatte per mano sua? Marco 6, versetto 2. Un Gesù che non è solo re e signore come lo pensiamo noi. Pilato gli domandò, sei tu il re dei giudei? Gesù gli rispose, tu lo dici. Marco 15, versetto 2. Gesù è tutto ciò, maestro, medico, re e signore, ma anche di più, molto di più. Gesù è il Messia, dice il Vangelo di Marco, Cristo in greco, lingua in cui è scritto il Vangelo. È il Messia atteso da tempo, il Cristo che generazioni e generazioni di esseri umani attendono. Gesù è il figlio di Dio, dichiara subito Marco. E ora dice, vi racconto quello che per tutto il mondo è una bella notizia, una buona notizia. È Vangelo o Evangelo. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. A Marco piace questa parola, Evangelo o Vangelo. La usa sette volte, mentre nei Vangeli di Luca e Giovanni non compare mai, mai questa parola. Nel Vangelo di Matteo compare quattro volte, ma è sempre accompagnata dalla precisazione del Regno. La buona notizia è quella che da Gesù, il Regno di Dio, si sta avvicinando, anzi si è avvicinato, dice Gesù. Per il Vangelo di Marco, invece, non ci sono dubbi. La buona notizia è Gesù stesso. È lui, le sue parole, la sua capacità di guarire, la sua opera nel mondo per noi, per tutti noi. In lui e solo in lui c'è salvezza per noi e per il mondo intero. Questa è la buona notizia. Ma se tutto è subito chiaro per chi legge il Vangelo di Marco, con gli occhi della fede, perché lo si può leggere anche senza gli occhi della fede, per i contemporanei del Maestro di Nazareth, compresi i discepoli, il dubbio e l'inquietudine dureranno a lungo. Gesù domandò ai suoi discepoli, chi dice la gente che io sia? Essi risposero, alcuni dicono che sei Giovanni il Battista, altri Elia e altri uno dei profeti. E Gesù domandò loro, ma voi, voi, chi dite che io sia? E Pietro gli rispose, tu sei il Cristo. La domanda di Gesù, chi dice la gente che io sia? Rimane aperta anche oggi. Le risposte sono le più diverse, le più disparate. E la sua seconda domanda, e voi, voi, voi che vi proclamate cristiani, che provate a essere cristiani, chi dite che io sia? Una domanda che resta aperta per molti, anche nelle comunità cristiane di oggi. Il tempo dell'Avvento, care amiche e cari amici, serve proprio per aiutarci a riconoscere che Gesù è colui che attendiamo, che attendiamo da sempre per accogliere le nostre esistenze e dare alle nostre esistenze una direzione sensata. E questo è davvero, Evangelo, una buona notizia. Amen. Vieni in mezzo a noi, mio liberatore, ci racconti in tutto il tuo grande amore. Non lasciarci più bene. Vieni in mezzo a noi, mio liberatore, ci racconti in tutto il tuo grande amore. Non lasciarci più in tutto il tuo grande amore. Non lasciarci più in tutto il tuo grande amore. Non lasciarci più un'altra noche. Non lasciare chi. Non lasciarci più in tutto il tuo grande amore. Non lasciarci più in tutto il tuo grande amore. Non lasciarci capire in tutto il tuo grande amore. Parks �vä sono un giusto, siamo llamati contributti al tuo grande amore. Non lasciare beggare per Poi trasformare il catenale di fraternità. Vi invito a raccoglierci in preghiera. Dio nostro, ti attendiamo. Donaci di saper fondare la nostra vita sulla speranza in te, malgrado tutte le difficoltà che incontriamo e i fallimenti e le delusioni che sperimentiamo. Donaci di cercare nella tua parola la luce, la luce di fronte al buio che è così diffuso tra di noi. Perché tu verrai ad arricchire i nostri giorni. Tu verrai a dare senso alla nostra opera. Tu verrai e farai tutto nuovo. Vogliamo seguire te, Signore. Donaci il coraggio di farlo. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, che ci ha insegnato a pregarti anche con queste parole. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male. Tu è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. E ora riceviamo la benedizione del Signore. Che la pace di Cristo dimori in noi, nelle nostre famiglie, in tutto il popolo di Dio e nel mondo. Amen. Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata dal pastore Eugenio Bernardini.